Il nostro Supermarket Natura fa di nuovo tappa in Franciacorta, siamo sempre ovviamente in compagnia di Elisa Gennari, operatrice del benessere che ci sta accompagnando in questo meraviglioso viaggio alla scoperta, riconoscimento di quelle che sono le piante selvatiche, quelle che possiamo trovare gratuitamente grazie ai doni di Madre Natura. Ben ritrovata Elisa. Grazie. Allora oggi ci dedichiamo ad altre tre erbe particolari che crescono un po' ovunque e in particolar modo anche in Franciacorta. Ce le vuoi presentare? Certo. Allora un rosolaccio che la chiamiamo così perché è la parte mangereccia ma è il papavero comune, quindi la pianta è papavero comune e lo conosciamo tutti quando è fiorito. La particolarità è conoscerlo quando è una rosa, quindi non si vede subito che è il papavero chiaramente, anche lui però ha delle segnature, quindi dopo andremo a vedere come non confonderlo magari con qualcosa che assomiglia. Non ha nessuna pianta tossica, velenosa simile però ne ha parecchie che gli assomigliano. L'altra è l'ortica, invece l'ortica è proprio una vera e propria officinale che possiamo trovare veramente con un'abbondanza incredibile. Attenzione tantissimo però dove la raccogliamo, quindi ogni pianta è riconoscibile, magari diciamo che bello in questo campo c'è di tutto però cerchiamo di capire cosa possiamo raccogliere e cosa no anche delle erbe selvatiche che incontriamo. Quindi se siamo vicino a un fosso di un campo di agricoltura magari non biologica è meglio non raccogliere l'ortica lì perché possiamo intossicarci appunto con i nutrienti che lei assorbe dall'acqua. L'altra pianta che osserveremo è il rovo, il rovo è una pianta selvatica che fa i frutti selvatici che conosciamo molto bene che sono le more e fa anche però un germoglio apicale che si può mangiare adesso proprio il periodo migliore per raccoglierlo e anche questa è sia mangereccia che officinale. Mangereccia, ce l'hai già spiegato il motivo ma adesso andiamo in campo a raccogliere. La nostra prima erba infatti la troviamo nei famosi muretti a secco della Franciacorta. Esatto, la troviamo anche per terra, ne troviamo veramente tanta che è appunto il rosolaccio ovvero il papavero comune. Come si raccoglie? Si raccoglie, allora in questo caso potremmo addirittura entrare con un coltellino e togliere tutta la pianta. A me non piace mai fare questa cosa perché comunque lascio alla pianta ancora un po' di vita rispetto anche alla fioritura che avrà e quindi prendo delle foglie visto che come notate è molto abbondante la rosa, vedete quanta, quante ne fa e resta abbondante anche nella cottura quindi però è chiaro che se siamo in un campo dove ne abbiamo veramente tanto tanto possiamo anche con un coltellino andare sotto e prendere proprio tutta questa rosona e portarla a casa. Il papavero è una delle piante selvatiche più anche queste infestanti, un tempo quando non c'era appunto l'agricoltura intensiva era una delle piante più conosciute e più diffuse e questa è sempre stata mangiata perché è veramente deliziosa, ha un gusto delicatissimo, è morbido e non stufa mai insomma, è una delle piante selvatiche che sicuramente rientra maggiormente nelle cucine italiane. Non ha grandi proprietà, ovvero il papavero comune ce l'ha, ma la rosetta basale mangiata così sì come un'orticola ma non ha proprietà officinale, per essere officinale c'è bisogno che smuova parecchio gli organi e appunto abbia degli effetti benefici sulla cura, sicuramente ha le sue proprietà benefiche quindi comunque ci fa bene. La riconosciamo appunto perché ci sono delle piante che le assomigliano, qualcuno appunto potrebbe dire che assomiglia al prezzemolo, alla carota, forse di più la carota l'avrei fatto assomigliare, purtroppo la cicuta che assomiglia alla carota, la vedremo un po' più avanti, quindi anche qui quando raccogliamo il rosolaccio all'inizio magari possiamo avere dei dubbi ed è normalissimo, quindi come sempre andare a affiancare qualcuno che ci fa un laboratorio in presenza è utile, anche due, tre, quattro perché all'inizio sembrano tutte uguali, ma soprattutto da cosa lo riconosciamo? Il rosso, vedete che in controluce ha proprio la peluria rossa che poi è la stessa del fiore, è proprio il rosso papavero, questa peluria non fa niente, non punge, anzi è morbidina e poi in cottura se ne va, questo è buonissimo anche lessato e condito, veramente è molto molto buono. Camminando, camminando Lisa incontriamo anche la nostra seconda pianta, l'ortica. L'ortica, l'ortica è sia un'officinale che una mangereccia, è molto buona e va utilizzata la cimetta, quindi quando la raccogliamo facciamo molta attenzione, utilizzo le forbici e prendiamo la cimetta in alto, si possono anche usare i guanti, assolutamente a mani nude è sconsigliato perché appunto è urticante, quindi l'ortica va lasciata in ammollo per un po', perché così perde tutta la sua peluria urticante, poi sempre con i guanti va lavata bene da tutte le polveri che può trattenere comunque questa peluria e poi va bollita, come sempre. tutte le erbe selvatiche si cucinano un po' allo stesso modo, come gli spinaci, come le biete, quindi niente di difficile. L'ortica si trova un po' tutto l'anno, un po' in tutte le zone, naturalmente però delle zone dove c'è dell'acqua, quindi qui vediamo che c'è una bella macchia di raccolta d'ortica, l'ortica è già anche molto alta in questa zona, ma vediamo che comunque le cimette sono giovani e tenere. Quando iniziamo a vedere le infiorescenze, ovvero il gambo diventa più duro e iniziano a farsi questi fiorellini che sono una catenella di palline, colore della loro, della stessa foglia, allora lì non è più il caso di raccoglierla, perché comunque la pianta sta facendo il soccorso di fruttificazione di semi. Iniziano i rovi, come possiamo vedere, mischiate tanti altri piccoli arbussi. Il rovo è un altra pianta selvatica commestibile, mangereccia e officinale. Come la raccogliamo? La raccogliamo anche qui è meglio con un forbicino avvicinandosi a quello che viene chiamato germoglio apicale, perché appunto non è il germoglio dalla terra ma è il germoglio finale, diciamo, della pianta. Si utilizza solo quando è germogliato così, quando è tenero è piccolina e quando ha le punte ma sono veramente piccole, quindi poi in cottura o in essiccazione o nel decotto non andremo più a sentirle, non ci pungeranno più. Quindi la raccolta va effettuata anche a mani nude, però a volte ci si può pungere è meglio utilizzare il forbicino. Grazie a tutti. Eccoci qua, abbiamo cambiato location, siamo immerse negli ulivi e adesso siamo pronte per parlare di quello che hai realizzato, quelle erbe che abbiamo raccolto oggi. Partiamo dal rosolaccio. Esatto, il rosolaccio è un'erba appunto che si può raccogliere a inizio primavera perché appunto è la rosa basale di quello che conosciamo tutti come papavero. Nella pianta il papavero comune si chiama rosolaccio la parte mangereccia. Gode di qualche proprietà ma non è proprio officinale, nel senso che si ha tante proprietà come un'orticola che ne ha tante, però non viene utilizzato a livello erboristico, ma è molto molto buono. Diciamo che è il mio preferito come sapore, come gusto, come delicatezza, abbondanza perché anche quando lo cuociamo resta comunque parecchio, invece abbiamo alcune erbe che una volta che poi le cuociamo diventano pochissime, come per esempio lo spinaccio. Si, si stringono. Esatto, invece il rosolaccio è delicatissimo e la cottura è veloce, si possono fare ripieni, si possono fare torte salate, si possono fare qualsiasi cosa, risotti. In questa ricetta, che è la mia ricetta particolare dell'erbazzone, che è un piatto emiliano, rivisitato in chiave vegana, grani antichi e erbe selvatiche, ripieno anche con le mandorle. Queste mandorle sono proprio dell'albero del giardino, quindi anche la frutta secca, i semi, i frutti selvatici possono essere sempre dei grandi alleati in cucina senza andare a comprare per forza della frutta secca che viene magari dall'altra parte del mondo. O degli aromi, peggio ancora. O degli aromi, esatto, al sapore di mandorle. Invece qui abbiamo proprio un concentrato di nutrienti, di vitamine e una vibrazione veramente molto alta data appunto dagli ingredienti principali che sono formidabili. Il rosolaccio si riconosce perché è un po' pelosetto e in controluce questa peluria è rossa come il papavero, quindi si riconosce tanto per questo aspetto. Lì invece la nostra protagonista è l'ortica. È l'ortica, messa qui proprio per far vedere, vedete il verde brillante che è molto diverso da questo verde. Il brillante appunto l'ortica lo mantiene anche nella cottura e in questa particolare crespella che a me piace chiamare di venere perché la protagonista è l'avena, l'avena in fiocchi, neanche la farina, quindi è anche senza glutine. Viene utilizzata come legante, come farina e poi si può mettere tutto quello che vogliamo. Si possono fare sia dolci che salate con l'ortica chiaramente che è ricca, piena di sali minerali, non vengono molto bene le preparazioni dolci, ma le crespelle appunto possono essere fatte con facilità da tutti. Basta mischiare alla pastella che abbiamo già creato, la vogliamo fare con le uova, con l'avena, con la farina zero, con quella che vogliamo, una parte di ortica cotta che andrà poi a sostituire l'acqua all'interno dell'impasto. E poi nella nostra piastrina l'abbiamo condita con delle carote fettuccine che anche qui mantengono, anzi aumentano le loro capacità nutritive, le carote leggermente scottate, quindi andrebbero mangiate sempre così piuttosto che crude. Ecco, l'ortica solitamente come ci ha già detto e come tutti sanno punge, ma è urticante, ma quando la ingeriamo anche se è cotta ci sono problemi? Da questo punto di vista no, è chiaro che come tutte le erbe officinali, e lei è una grande erba officinale, possono avere delle controindicazioni, quindi quando qualcuno sa di avere una patologia o cronica o anche del momento, prima di farsi una scorpacciata di una pianta officinale deve capire se rispetto alla patologia o al disturbo, al disequilibrio che sta affrontando fa bene. Ad esempio anche conoscere l'elemento che predomina all'interno di una pianta, un tempo si faceva così, anche Hildegard nel suo libro, del libro delle creature, spiega sempre subito se è umido, secco, caldo, bagnato, gli elementi una volta si utilizzavano molto, anche se è una pianta acquatica, perché preferisce naturalmente dove c'è l'acqua, il segno dell'ortica, l'elemento dell'ortica è il fuoco, quindi quando abbiamo un disequilibrio fuoco non dovremmo consumare ortica, quindi questo. A livello officinale invece la possiamo utilizzare in decotti e in tisane e a livello officinale è un potentissimo antianemico, quindi le persone che soffrono di anemia possono fare dei cicli di ortica che possono durare, non so, uno o due mesi durante l'anno per ridare un po' di ferro al nostro corpo. Si deve sempre abbinare alla vitamina C, quindi la contiene, l'ortica contiene anche un po' di vitamina C, è chiaro che poi in cottura queste cose si perdono. Allora quando noi vogliamo utilizzare un'erba selvatica con questo scopo officinale, il mio consiglio è di rivolgersi a un erborista che ha magari fatto un macerato particolare utilizzando la cruda, fresca, oppure anche che segue la biodinamica, anche la spagirica, cioè tutte delle tipologie di trasformazione che aumentano ancora di più l'efficacia del prodotto, però nulla toglie che a livello diuretico, a livello di depurazione, che è tutto quello che serve prima avevamo parlato dell'intestino, adesso serve già più al nostro sistema linfatico e quello del fegato, l'ortica sicuramente è una grande alleata. In cosmesi si utilizza? Si utilizza soprattutto sulla cute, perché appunto ha un potere di riattivante, riattivante sui capelli, quindi si trova spesso negli shampoo, anche quelli normalizzanti, tinge, quindi è una tintoria e anche sui capelli viene utilizzata per fare un colore bello scuro. Anche lei ha dei falsi amici? Anche lei ha dei falsi amici, non velenosi e tossici, però che non sono buoni, quindi evitiamo, allora non pungono, quindi la segnatura principale dell'ortica è che punge e ce ne accorgiamo che solo se la sfioriamo lei si difende così, mentre l'altra che gli assomiglia spesso sono anche vicine, ha una foglia più gommosa e un fiore giallo, quindi il fiore proprio, l'ortica ce l'ha assolutamente ma non è colorato, è color ortica. Mentre un'altra che viene chiamata la falsa ortica che è il lamio, non c'entra niente con l'ortica, ma è anche quella una mangereccia, la vedremo più avanti. E qui invece questo pancake? Questo è un pancake carasau addirittura, quindi io sono vegana ma qualche volta al mese, due di solito, utilizzo l'uovo come rimedio, le uova me le porto al vicino di casa, sto sempre molto attenta a come trattano le galline e anche a quello che mangiano chiaramente perché altrimenti tutto quello che ci mangiamo dall'origine animale passa anche da lì, perché l'ho voluto unire al rovo? Perché il rovo naturalmente anche la foglia è leggermente dolce e un po' acidula, come proprio le more. Il rovo poi oltre alla foglia e al germoglio apicale, come dicevamo, è una pianta che fruttifica, quindi i frutti del rovo sono buonissimi, sono frutti selvatici che possiamo andare a raccogliere, li troviamo veramente in tantissimi posti, anche lì attenzione al fosso, al fiume, alla falda acquifera che c'è sotto, perché comunque anche loro si ciucciano tutto. Quindi questo è fatto con le uova, io il formaggio non lo uso mai, quindi non c'è, invece che la farina ho utilizzato del pane carasau frullato all'interno che non è salato e non ha olio il pane carasau, e quindi si presta anche alle preparazioni dolci, volendo si può aggiungere anche lo zucchero, altrimenti lasciarlo al naturale, perché all'interno comunque abbiamo anche il rovo, quindi vedete non solo sopra. Come decorazione ma anche all'interno, come ingrediente. All'interno abbiamo il rovo che proprio fa tutta una, sembra un pane, no? Vedete? Sì, perché appunto il carasau fa più l'effetto pane, quindi è proprio un pancake in piena regola. E questo è il suo decotto, quindi ieri io, cocendo le foglie del rovo, non ho messo il sale, perché poi andava fatta questa preparazione che non è salata, però comunque io di solito quando cuocio le erbe, le lavo bene prima, assolutamente, e poi le cuocio e tengo il brodo di cottura, che è il decotto. Così non si può consumare? Si può consumare anche cruda, però alle spine, anche il germoglio apicale, quindi si può utilizzare fresca in decotto e si può bere, si può utilizzare essiccato, quindi messe poi in un sacchetto, messe anche sbriciolate in tisana e viene consigliato, vabbè, come diuretico, è un bel po' stringente, quindi chi ha problemi di stitichezza non dovrebbe consumarne troppo, anche la foglia cotta, quindi se si ha questo tipo di approccio col proprio intestino è meglio magari non andare sul rovo e ha dei fitoestrogeni, quindi viene utilizzato anche per bilanciare gli ormoni, soprattutto nella donna è una delle foglie che si utilizza anche in gravidanza, invece spesso quasi tutte non si possono utilizzare in gravidanza, invece le foglie del rovo fanno molto bene. Grazie come sempre Elisa per la tua professionalità e direi che oggi, anche oggi, il nostro supermarket Natura ha funzionato alla meraviglia perché guarda qui quanta spesa abbiamo fatto. Gratis. Gratis ovviamente. Quindi ci ritroviamo prossimamente, grazie ancora, grazie anche a tutti voi per l'attenzione. Arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.